Rubano vestiti, tentano di oltrepassare l'antitaccheggio, ma suona l'allarme e vengono bloccate. Sono state sorprese nella flagranza del reato due cittadine moldave di 31 e 37 anni, residenti a Fano, che avevano deciso di trascorrere una domenica alternativa al supermercato Iperrossini di Pesaro. Entrate al negozio OVS, avevano ben pensato di sottrarre della refurtiva, nascondendola dentro due borse schermate con fogli di carta stagnola. Lo scopo era quello di eludere le barriere antitaccheggio, uno stratagemma che, sebbene in quel caso non aveva funzionato, in altre occasioni si era rivelato efficace. Così sono state fermate da un addetto alla vigilanza e arrestate dalla polizia. La coppia, che ora si trova nel carcere di Villa Fastigi, a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trovata in possesso anche di prodotti cosmetici, sottratti da un altro esercizio dello stesso ipermercato. Poi, nella loro vettura, gli agenti hanno rinvenuto capi d'abbigliamento e articoli elettronici. Nella loro abitazione, invece, sono stati sequestrati ulteriori abiti ed una ventina di occhiali da sole di marca, per un valore totale di circa 2000 euro. I poliziotti, inoltre, sulla base delle descrizioni fornite dalla vigilanza privata, hanno intercettato due cittadini rumeni di 22 e 38 anni, sospettati di essere dei taccheggiatori. Nella casa del più giovane sono stati ritrovate numerose t-shirt e scarpe da ginnastica di marche pregiate, risultate rubate in un negozio di rimini. Per questo motivo, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Infine, l'equipaggio di una volante ha rinvenuto in un terreno agricolo, in via Metauro, alcune scatole portagioie contenenti orologi, collanine, braccialetti ed altri monili. Un bottino che riguarda furti consumati in zona nei giorni precedenti e probabilmente lasciati dai ladri con l'intenzione di venirli a recuperare solo in un secondo momento.